riproviamo ok sono pronto vai il frosty tea si è l'ultimo e l'ultimo eccolo qui e allora il festival mia collezionista di di cavalli adesso tutte in un posto un po largo da che lato ti metti esattamente dimmi tu mi piace anche così che è un po meglio ammirateci nel nostro splendore mitico però qui ci vuole un vestito decente allora aspetta ci vuole un vestitello decente quindi penso che mi metterò questo si adesso probabilmente ci potete ancora ammirare non so se vi abbiamo già mostrato dov'è che si fa il festival non lo so direi di sbloggare loro e logare gli altri due e portarli fino al posto del festival tu che ne dici non so in che posto mi trovo con l'altra ci possiamo provare andiamo ciao ben tornati detto prima io vi facciamo vedere come si arriva allo yule festival e com'è com'è dall'anno scorso ho iniziato una nuova locazione allora una volta a brie west brie c'è il vecchio stable master che è lui e c'è il festival announcer ovviamente voi ci cliccate e c'è una sola destinazione è abbastanza semplice bravo via e si parte ci sono questi giornaliere che sono a radio più giornaliere sono ogni pari tre ore si con le quali otterrete i token me ne servono 20 necessari ad ottenere parevio che voi abbiate vinto almeno una gara e quindi ottenuto il token per il cavalluccio e che abbiate già un amount se lo dico a sproponso ottenere la famosa mount di cui sopra che avete visto che è questa tra parentesi questa qui ops ho sbagliato questa salve io sono vicini io e rush ok nevica ovviamente nevica ah io prima la posta mi serve però posta posta c'è la posta qui? no eh c'avevo questa impressione sono un pippa allora torno a dubbio no dove vai? torno a west brie e poi torno a quale grazie intanto io vi faccio a me i nomi non mi piacciono sopra è tutto un troppo un casino facciamo un giro qui si cambiano ovviamente i token che avete preso ah perchè è vero qui a winter home mi hanno detto che erano un po' particolari oh ne ho detto che vanno poi contrabbandati ovviamente ci sono i personaggini che vi danno le quest oh che carina è questa ok facciamo un giro noi intanto ah questo mouse che non è il mio dove è andato a finire? ecco ah il cavalluccio è il lungo cavallo che non costa guardate le illuminari guardate che carine le illuminari avevo che farlo nella notte certo i panni stessi sotto la neve non è proprio una genialata però mi rendo conto che va bene lo stesso ok andiamo a riprendere mira che è arrivata si è arrivata può essere il cavallo poi non è mira e ascio eh va bene di strike hai ragione di nulla troppi personaggi comunque eccomi eccomi eccoci se vi arrivo a trionfale in corsa ehm andiamo qua abbiamo poste quest ok parlo subito col tizio io non gli devo dare proprio niente eh ma queste sono quelle iniziali ah vero perché lei non c'è ancora venuta mai no subito due token allora scendiamo qui tu 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 io facciamo in giro facciamo che siccome sei tu il regista ti ricordo, racconta anche quello che vedi, quello che succede allora qui davanti vedete questa gente questo trappello di persone che aspetta da lei dalla signora Ona in sostanza è una vera mangereccia a chi mangia di più e si fa attraverso tutta la città ovviamente man mano che si mangia rallentano i riflessi si è più lenti è passato vicino a me la nuova il pecorone speciale l'ho visto ecco qua io invece ho preso una quest che devo scacciare sti piagnoni ubriaconi dalla città la quest normale scaccia la gente io ho trovato ah devo andare lo snowboard dopodiché parlo con questo che questo ci farà fare adesso ve la faccio vedere una quest fantastica di fuochi d'artificio ora la faccio subito? vai 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 io non devo andare a parlare per me tutto l'altro giro intanto caccio dalla città sta piagnona se non mi sarei fregato questo è possibile signora via ciao ok perfetto giriamo di qua come potete vedere qualcuno già sta ha messo in moto si ha messo in moto i fuochi d'artificio come potete vedere quindi per il momento ci tocca aspettare questo lo prende a schiaffi qua il fuoco d'artificio nel frattempo andiamo a prendere le quest qui sotto si a me tocca prendere il tour perché questa non ci è mai mai venuta ok prendiamo tutte le quest che si fanno sempre in questa città e sono tutte affini i coin che poi vanno tradati per i festival coins e le quest sono tutte affini al al festival ecco qua allora di nuovo mannaggia sto mouse con i fuochi d'artificio scusatemi mi sono perso di nuovo ok eccomi allora fuochizziamo e adesso dobbiamo correre veloce 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 a derubare questi signori ignari che ballano e guardano i fuochi come siamo bravi noi con e questa è una questa a tempo e noi abbiamo un minuto ancora e qualcosa mi devo dare una mossa sì signora guarda i fuochi guarda i fuochi guarda i fuochi io ti svuoto le saccocce papappero che ti ridi tu io sto ancora cercando di finire il tour per iniziare a questare figuriamoci ne dobbiamo derubare 8 noi siamo a quota 5 questo è il sesto io sono l'hobbit del teatro è un'altra quest veramente carina è il teatro c'è uno spettacolo teatrale messo su dai giocatori stessi sì bisogna interpretare io in tanti anni che gioco è la prima volta che ho partecipato al pesballo che mi sono spinto troppo avanti sono finito nel backstage abbiamo finito questa quest ora l'andiamo a riconsegnare loro sono tornati a ballare ignari di essere stati derubati se vedete queste cose che sbrilluccicano qui davanti ecco questa è la monnezza mangereccia del festival e noi abbiamo una quest che ci dice di ripulire tutto come un enorme sagra sì come una sagra quindi sostanzialmente si ripulisce tutto noi siamo bravi boy scout che ripuliscono tutto parlo di un amico in voglio questa agenda lo sapevo io i piatti sporchi lo sgomitazzo per terra se ci penso bene fa un po' schifo in realtà scusate ma questa postazione di gioco non è la mia e questo mouse ogni tanto mi se ne va per le fratte è un ballamento sì ok guarda che siamo stratterelli a giocare lo so noi vogliamo fa ti vuoi lamentare hai due computer per giocare a questo gioco e c'è gente che non ha sempre sempre lamentina io sì va bene oh e quindi non ho nulla ecco ma pensavo io ok sto prendendo anche tutta la quest finalmente ok andiamo a riportare la quest vedete siamo in montagna nevica fa freddo e io ho tolto il vestito bello per un vestito caldo ecco qui e riceviamo i frost bluff coin che poi convertiremo in token finiamo e vedete cosa c'è sulla testa di questo ometto questo ci dice che la prossima quest la possiamo fare tra otto ore possiamo rifare questa quest tra otto ore perfetto andiamo a finire di pulire l'eccessità in giro per il mondo qui gente che mangia questa quest non la farò più non la farò mai più questa cosa del mangismo perché non sono proprio capace non ce la posso fare non ce la posso proprio fare sono lenta come la morte anzi la morte a volte è più veloce di me ok vediamo un po' su tutte le quest me dai not far away comunque questo è in buona sostanza del pezzo veloce no sai che volevo fare però ok finisco di raccogliere mo italiano proprio di raccogliere queste cose esatto e volevo far vedere i pupazzi di neve si anche il teatro oppure gli possiamo dedicare una puntata al teatro casomai tu fai l'attore faccio una tutta in merda mi stai dicendo ok perché io non so brava e facciamo una puntata sul teatro e adesso via veloci come la luce hai pupazzi di neve andiamo dimmi che vengo anch'io hai pupazzi di neve ti aspetto hai pupazzi di neve ci prende pure il cavallo sta qua fuori perché siamo lungo più l'uno a fianco all'altro oggi quindi lei vede esattamente quello che faccio intanto dico a questo di smammare si dice un po' da tutte le parti di smammare vero? spero di si guardate i pupazzi di neve dove sei tu? guarda di fianco all'omino che dalle quest ah sei già sceso sotto calmi calmi arrivo sì perché quest'anno hanno aggiunto questa bellissima quest a mio modo di vedere ci dovete fare dei pupazzi di neve evviva io faccio questo va bene abbiamo smesso di annoiarvi anche per oggi penso sì perché grosso modo sono altri qualche quest qui in giro potete fare la palla di neve nel campo che vedete più giù ci sono vedete il pupazzi di neve qui sotto qui per intenderci qui mi sa che non si vede il mouse non lo so comunque lì giù vedete il pupazzi di neve potete fare la palla di neve lì giù ci trova un bel po' di quest carine da fare e faremo una puntata speciale sul teatro sì perché merita merita è un'innovazione che veramente merita ragazzi è stato un piacere aspetta arrivederci vuoi fare ciao ciao no tu vuoi fare io volevo fare questo in realtà questo yeah ciao 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 Grazie a tutti